no è che vorrei far riscattare il signor tauriello perché c'è un video dove lui ha un soffitto e ci sono ben 11 persone che hanno dato parere negativo il soffitto di ardea lo ricordi no proprio per video che è scarso cioè che ha fatto male non c'è la qualità che è giusta ma io sto qui è lui che ti impiegia io lo so quello sarebbe scaroccio scaroccio certo se c'erano le magliette ufficiali della ditta sarebbe stata un'altra cosa ma le magliette sono in vendita i maglioni anzi ma i maglioni per farli sono in vendita su internet o li comprate e li mettete 29 euro la verba la scritta però ha scritta la tua vittura attenzione e rosone hai carteggiato tutto qua e rosone è pronto dopo facciamo dove stavano intorno intorno ok dopo c'è dato che c'è da farlo bene dentro è vero ma c'è da farlo bene dentro ok 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 ok